Buongiorno a tutti, desidero ringraziarvi per il cortese invito, ma purtroppo impegni istituzionali mi impediscono di essere con voi. Abbiamo iniziato una legislatura cercando di mettere a fuoco le priorità che oggi possono consentire di proteggere l'uomo e l'ambiente. Come sapete gli ultimi decenni sono stati caratterizzati da un modello di sviluppo di Senato che ha causato degrado sociale, ingiustizie, disuguaglianze sociali. L'Unione Europea deve guidare la transizione verso un pianeta che riusciamo a proteggere meglio. Per farlo però deve unire le persone, adeguare l'economia sociale di mercato alle nuove ambizioni della nostra epoca e la condivisione del cibo, la tutela dell'ambiente sono i due percorsi che dobbiamo seguire, non solo per tutelare la biodiversità, proteggere la nostra salute ma anche per combattere le disuguaglianze che stanno emergendo nel mondo globale. La lotta al cambiamento climatico dovrà essere inclusa in tutte le politiche dell'Unione. In questo inizio di legislatura il Parlamento Europeo si è già dimostrato molto attivo, ha dichiarato lo stato di emergenza climatica, ha difeso una posizione forte e ambiziosa alla COP25 di Madrid che non ha dato troppi risultati, è riuscito a portare a termine i fascicoli sulla finanza sostenibile, l'acqua potabile nei prossimi mesi si adopererà per ottenere risultati concreti in relazione alle proposte sul Green Deal, a partire dalla normativa sul clima e sulla sostenibilità della politica agricola comune. Per fare tutto questo serve un'Europa più forte, più unita, ma non a scapito degli altri, bensì con l'attenzione agli altri, a tutti coloro che vivono fuori dallo spazio europeo. Come ha detto e come ha ribadito più volte Papa Francesco durante il recente sinodo sull'Amazzonia, dobbiamo raccogliere senza distruggere, riscoprendo il sacro legame che lega l'indigeno alla natura. Credo che questo sia il viatico, l'auspicio che dobbiamo sempre tenere presente. Buon lavoro a tutti.